L'intervistanza obbligatoria è di 150 metri. Due segnalazioni luminose, disposte ad intervalli regolari di 150 metri, devono separare il vostro veicolo da quello che vi precede. Rispettate i limiti di velocità, minimo 50, massimo 7, più orari. In caso di emergenza, utilizzate le aree di sosta alla vostra destra e seguite le istruzioni di sicurezza che vi sono state consegnate al pedaggio. Rimanete costantemente all'ascolto della radio e fate un buon viaggio. Bienvenuti al tunnel di Mont Blanc. Per vostra sicurità, il tunnel è placato su video-surveillance. L'interdistanza obbligatoria è di 150 metri. Due balisaggi lumineux blei, disposti ad intervalli regolari di metri, dovrebbero separare il vostro veicolo da quello che vi precede. Respecte le limiti di velocità, minimo 50, massimo 70 km all'ora. In caso di emergenza, utilizzate le placere a la vostra destra e seguite le consigni di sicurezza remise al pedaggio. Restate sempre a l'escoltare il vostro radeo e... Welcome to the Mont Blanc Tunnel. For your safety, the tunnel is equipped with a video-surveillance system. The compulsory distance between vehicles is 150 meters. Two blue lights located every 150 meters. Separate your vehicle from the one preceding yours. Please observe speed limits. Minimum speed is 50 kilometers per hour. And maximum speed is 70. In case of emergency, use areas to your right. And follow the safety instructions you were given at the toll booth. Always listen to the radio. And we wish you a pleasant trip. But... Whenever you talk to us just about people...